Professoressa Vincenza Palmieri, che ho citato prima in relazione al libro di Linda, le affido 5 minuti di riflessione, gli argomenti li abbiamo già toccati tutti e penso che possa autorevolmente mettere una chiosa. Prego, professoressa. Sì, grazie, buonasera. Velocemente, quello che ho respirato questa sera è un grande coraggio, un grande coraggio da parte di Linda e di Sabrina ed è questo coraggio che ci deve rimanere addosso. Ma non deve essere solo il coraggio delle donne, deve essere il coraggio che ci portiamo dietro al termine di questa serata e se la devono portare tutti, giornalisti, membri del governo, del Parlamento, perché dopo il coraggio delle donne ci vuole il coraggio delle soluzioni, delle soluzioni politiche, delle soluzioni istituzionali e legislative. Le donne che denunciano, abbiamo parlato tanto di denuncia questa sera e questa è sicuramente una vittoria di civiltà, ma le donne che denunciano non sono sempre sui tacchi a spillo e sulle scarpe di vernice rossa, sono in casa, sono casalinghe, hanno anche le pantopole o hanno le scarpe veloci per andare al lavoro al mattino presto. Ed è proprio per queste donne che dobbiamo essere tanto coraggiosi da creare tutele. Sì, dobbiamo invitare a denunciare. Roma oggi era piena di manifesti e di articoli anche sui giornali per invitare a denunciare. Denunciare non basta, non è sufficiente. Dobbiamo creare le tutele per le donne che denunciano, perché è quasi una pratica corrente italiana. Io sono un consulente tecnico forense e quindi parlo perché faccio questo lavoro. Assistiamo costantemente al fenomeno dei bambini che vengono tolti alle mamme che denunciano e che si sono rivolti, come ha detto Linda prima, con fiducia all'istituzione che hanno chiesto rifugio pensando di avviare un percorso di libertà. Ma sono stati inghiottiti e come si è già detto, l'uomo maltrattante fuori allo stadio o sdraiato sul divano, è la donna in cattività, nella stessa cattività in cui è nato questo libro di Linda che davvero mi ha onorato. Io mi sento onorata per avere introdotto le parole di Linda perché il suo libro è una pittura. Lei ha dipinto con le parole, le sue parole dolorose, la vicenda drammatica che lei ha vissuto. Io vado velocemente questa sera perché mi è stato richiesto di essere veloce ma ci sarebbe tantissimo da dire. Franca Viola tanti anni fa con il suo coraggio ha cambiato e con il suo rifiuto del matrimonio riparatore ha cambiato un pezzo di legislazione. Ebbene, io quello che vorrei è che il coraggio di Linda, in modo particolare di Sabrina e di tutte le donne che non solo hanno il coraggio di denunciare ma hanno il coraggio anche di vivere la via crucis della separazione dai loro figli come accade solitamente perché sembra che le donne che denunciano hanno ragione solo quando muoiono. E trovo estremamente ipocrita il fatto che riempiamo i rotocalchi e le notizie di giornali per le notizie di femminicidio. Il femminicidio si può fermare prima, si può fermare perché quando una donna o un uomo, quando c'è una situazione di violenza, quando si denuncia una violenza, si deve garantire poi che la storia venga presa in carico e venga trattata con sensibilità, con ascolto. Linda usa delle parole molto belle nel suo libro, sono state quelle che mi sono piaciute di più. Lei si riferisce a tutti coloro che sono saliti ad inquinare un palcoscenico fin troppo affollato ed era proprio il riferimento a quella rete quando accade un fatto che precursore poi a un femminicidio, un fatto di questo genere, tanta gente sale a recitare sul palcoscenico la sua parte e molto spesso queste parti non sono gratuite, sono parti molto ben prezzolate, una filiera che si alimenta perché c'è la struttura, poi c'è l'educatore, poi c'è il servizio sociale, vogliamo parlare di tutori perché quando la madre viene messa fuori gioco e poi arrivano i tutori, arrivano un sacco di persone di cui nessuno verifica come invece è successo con Linda, nessuno verifica l'idoneità perché l'idoneità di genitoriale, paradossalmente di Linda che voleva solo rifugio, è stata verificata mille volte. L'idoneità di coloro che sono i genitori sostitutivi non viene verificata mai e non starò qui a raccontarvi quanto Linda mi ha già riferito e quanto ho anche letto sul libro. Questo è un libro che va letto, io sono il presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, abbiamo deciso con il Comitato Tecnico Scientifico di adottare questo libro tra i libri di testo del nostro istituto, perché? Perché è un libro altamente formativo, sia Sabrina che Linda hanno parlato di formazione, allora se qualcuno deve fare la formazione a coloro che sono i sostituti genitori, forse è il caso che lo facciano proprio queste donne, queste ragazze, questi bambini e questi zii, questi nonni che comunque sono coinvolti da queste vicende. Io vado velocemente in chiusura ma mi piace dirvi, presentarvi Linda come l'ho conosciuta io attraverso le parole di suo padre. Suo padre quando l'ho conosciuto mi ha detto Linda è sempre la bambina che io ho curato quando era piccola, anche se adesso è diventata grande, rimane la mia bambina. Io non voglio fare il genitore sostitutivo, non voglio l'affido dei suoi figli, io voglio semplicemente fare il padre di mia figlia, aiutare mia figlia in questo momento difficile, ma non avrei mai pensato che quando ho accompagnato mia figlia davanti al portone della struttura, io l'ho accompagnato perché volevo che mia figlia fosse protetta, visto che io non ero riuscito a proteggerla, quando si è spalancato quel portone e lei con i bambini sono entrati dentro e quando quel portone si è richiuso io non avrei mai immaginato che si sarebbe richiuso per sempre sull'amore, sull'affetto. Nessuno di noi immagina che quando quel portone si chiude, si chiude la vita e io voglio chiudere ricordando o pensando a che questo meraviglioso dipinto che Linda ha fatto in effetti non è il suo miglior libro. Il libro più bello che Linda scriverà lo scriverà insieme ai suoi figli, così come i suoi figli lo hanno ispirato, visto che questo libro è nato proprio in cattività e io ho fatto un sogno questa notte e ho sognato che i bambini di Linda parlassero al giudice e dicessero al giudice, levandoci la mamma ci hanno tolto la vita. Io avevo otto anni, lei dieci, quando ce l'hanno tolta. Natale senza mamma non si può fare. Io preferirei stare dentro una fogna, basta che sto con mamma, basta che vivo insieme a mamma, basta che sto con lei e sono felice, felice. Mi hai capito? Grazie professoressa, grazie per questo suo contributo e alzando notevolmente la temperatura emotiva, diciamo, perché sono cose che non si possono ascoltare con distacco queste. Immagino per chi le ha vissute direttamente e chi le ha vissute immediatamente. Allora, penso che sia anche il momento giusto per lasciar concludere Giovanni De Maio, che qua abbiamo presentato nella cantina come esperta in amore e relazioni. Ecco qua c'è molto da lavorare su questo versante, no? Di andare oltre la patina dell'innamoramento, dei primi giorni felici e poi invece imparare a costruire rapporti che si fondano sul rispetto reciproco.